Quanto è importante aver disputato un'Olimpiade per prepararsi a un'altra Olimpiade? Beh, diciamo che è un film già visto. Conosco un po' quasi tutti gli avversari, sono rimasti gli stessi, qualche giovane emergente, ma in pratica già so con chi andrò a competere per quanto riguarda la qualificazione olimpica. È dura lo stesso, nel senso che sono agguerriti più che mai perché l'Olimpiade è un traguardo ambizioso che nessuno vuole rinunciare. Il percorso da Londra a Rio, speriamo, come sei migliorato? Allora, il percorso a Rio per me è un nuovo percorso. Io ho fatto Londra l'ultima Olimpiade a 60 kg, adesso ho cambiato categoria a 66. Una nuova esperienza, una nuova voglia di arrivare, una sfida con me stesso, perché non è stato semplice cambiare categoria e mettermi in gioco con altri atleti, nuovi atleti e anche un po' di più forti. Come giudichi il livello della battuglia italiana da qui a Rio? Ci sono margini di miglioramento? Assolutamente, stiamo facendo un buon lavoro, la squadra è composta da ragazzi giovani e da noi che magari già abbiamo un quadrienne sulle spalle. Però, come ripeto, siamo un bel gruppo, manca un anno e mezzo e miglioramenti già li stiamo avendo, quindi dobbiamo solo concretizzare con le medaglie. insomma.